Rifiuti abbandonati lungo il fiume proprio mentre proseguono i lavori di pulizia dell'area. È l'episodio accaduto a Benevento nei pressi dell'Argine del sabato dove è in corso l'intervento di bonifica degli ingombranti. La denuncia arriva direttamente dall'assessore all'ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa, che chiede oggi più collaborazione in attesa anche dell'installazione delle telecamere in zona. Intanto i lavori proseguono, nell'assessare è stato avviato un nuovo intervento di bonifica, ma i residenti chiedono più controlli ed anche tempi celeri per la realizzazione dell'intervento. Richiediamo a parte il rispetto per gli argini del fiume, per la fauna, poi soprattutto richiediamo anche la presenza dei vici. Bisogna anche fare un po' di controllo e penso che quelli là che buttano i rifiuti debbano essere sanzionati. Dovevamo essere noi civili a non buttare i rifiuti per strada, abbiamo di tutto a casa per fare questa differenziata, quindi a questo punto perché buttarli per strada? Pericchi anni, non mesi, è stata tutta questa strada rotta che dovevano pulire il manto del fiume. Per fare una pulizia non è che ci vogliono dieci anni. Di qui l'appello, collaborazione e sanzioni per chi non rispetta le regole a danno dei fiumi che invece potrebbero diventare un'importante risorsa. Magari se ci sta la possibilità di rinnovare i fiumi, di creare piste ciclabili, di mettere degli impianti a LED e soprattutto di fare dei punti ricreativi per i bambini, persone adulte e quant'altro. Per l'ambiente si deve fare tanto, siamo bene noi e sa bene tutto insomma.